Il fuoco naturale fa parte del DNA dell'uomo ed è un elemento che dall'antichità ha sempre rappresentato calore, sicurezza, riparo, oltre che strumento per cucinare e attorno al quale riunirsi per momenti di convivialità. Un'evoluzione che fino a 50 anni fa era incentrata sul fuoco a legna, utilizzato in ogni casa non solo per esigenze di riscaldamento ma anche per avere benessere e tranquillità. Tuttavia con l'avvento di sistemi come caldaia a condensazione, pannelli solari o pompe di calore, negli ultimi anni si è un po' perso il contatto con il fuoco naturale e con l'atmosfera unica ad esso collegata. A ciò si aggiungono anche il fattore urbanistico con la nascita delle grandi città e la riduzione degli spazi per il combustibile e i regolamenti comunali che limitano l'uso delle biomasse. Nonostante ciò il fuoco naturale sta pian piano tornando nelle case delle persone, sotto una veste nuova ma senza snaturare ciò che da sempre il fuoco ha rappresentato. Stufe e cammini a gas di ultima generazione stanno facendo riscoprire quel mondo di emozioni e di benessere che ha radici profonde e mai sopite. La tecnologia di oggi permette di vivere il fuoco in qualsiasi casa edificio ambiente e di farlo con una comodità mai vista prima. Anche per chi vuole semplicemente godersi qualche ora di comfort immediato senza limiti e a consumi ridotti. Questi dispositivi consumano meno, garantiscono massima sicurezza e possono riscaldare velocemente uno o più ambienti. La modulazione dell'intensità di fiamma in modo termostatico inoltre ottimizza e riduce i consumi di gas per rendimenti superiori all'85%. I moderni apparecchi a gas rappresentano oggi la soluzione per il completamento del riscaldamento più efficace, funzionale ed emozionale per ogni tipo di abitazione. La netta differenza rispetto alle caldaie è rappresentata dal fatto di non dover riscaldare decine o centinaia di litri di acqua che poi va mandata ai termosifoni. Caminetti e stufe a gas infatti si allacciano alla rete domestica e sono dispositivi con scambio termico diretto. Dunque per un effetto radiante e convettivo la diffusione del calore avviene in pochi minuti dopo l'accensione del fuoco. Se da un lato essi non possono sostituire completamente l'impianto principale, dall'altro riducono in modo considerevole l'utilizzo dell'impianto stesso. Inoltre la gestione intelligente del combustibile con la modalità cronotermostato permette di sfruttare il gas secondo le esigenze e ridurre i consumi fino al 40%. Anche i costi quindi sono molto contenuti e paragonabili a quelli della legna e del pellet. Soprattutto se nel confronto si considerano non solo il costo della materia prima ma anche i costi indiretti legati al trasporto e manutenzione. Il gas infatti non richiede alcuno stoccaggio e movimentazione garantendo comodità e pulizia e di conseguenza appunto una ridotta manutenzione. Oggi esistono infinite soluzioni per animare i propri spazi con fiamme accoglienti, vivaci e luminose. Per saperne di più visita il nostro sito www.zettalinea.com oppure contattaci per ricevere da un nostro professionista i dettagli e le informazioni che ti servono.